Arresti domiciliari per due vigilesse della Polizia Municipale di Agliana in provincia di Pistoia a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal CIP ed eseguita stamani dai carabinieri. Le due vigilesse, una delle quali è la comandante, sono gravemente indiziate a vario titolo ed in concorso tra loro dei reati di atti persecutori, falso ideologico, calunnia, furto aggravato, rilevati dall'arma comportamenti ostili nei confronti di alcuni colleghi non graditi che si sarebbero concretizzati in più procedimenti disciplinari, demanzionamenti, ingiurie alla presenza di altri colleghi e anche di cittadini utenti. Sì, riguarda la comandante è un agente, gli addebiti sono importanti, vediamo come muoversi. Nominerà un comandante facente funzioni? Sì, certamente perché poi nei casi di restrizione della libertà personale è prevista la sospensione quindi dovrò nominare un facente funzioni e poi dare adito a tutti gli atti del caso. Come è stata presa questa notizia anche all'interno degli uffici e all'interno del comune? Con parecchio sconcerto, apprensione, nessuno se l'aspettava, non ce l'aspettavamo però chiaramente leggiamo bene le carte e capiamo prima di dare giudizio a frettati. Gli uffici del comando della Polizia Municipale sono stati perquisiti e vi sono stati sequestrati supporti informatici e documenti ritenuti utili ai fini investigativi? Sì, c'è stata una perquisizione, gli inquirenti hanno proceduto anche a un sequestro e vediamo cosa emerge.